Oggi parliamo delle sonde, vediamo l'utilizzo di una sonda base e andiamo a vedere com'è fatta. Quindi sulla sonda troverete sempre un selettore con scritto 1x10x, vediamo cosa serve. Quindi proviamo a collegarla e utilizzarla vedendo che differenze ci sono. Iniziamo subito. Anche le sonde dell'oscilloscopio non sono da sottovalutare, sono importanti perché non andiamo a misurare segnali stabili, ma segnali continui o che cambiano poco, ma sono solitamente segnali rapidi, quindi con anche frequenze elevate e quindi la sonda è importante. A volte le vediamo semplicemente come una specie di pennetta collegato a un connettore BNC su un'estremità e poco badiamo a come effettivamente si comportino e come funzionino. Quelle più comuni sono di tipo passivo, spesso hanno un piccolo commutatore messo sul dorso, questo commutatore permette di modificare il comportamento, trovate di solito scritto 1x10x, questo diciamo va a modificare l'impedenza interna della sonda. Le sonde sono abbastanza complesse come costruzione, quindi non è una semplice bacchetta di metallo, abbiamo anche un trimmer di compensazione. Si può provare a disegnare uno schema elettrico partendo dal connettore, quindi questo è il connettore della nostra sonda, abbiamo la calza e il filo centrale, inizialmente nella parte più vicina al connettore abbiamo un compensatore, il compensatore di frequenza corrisponde a quella vitina che spesso si vede, non so se avete mai notato. Questo ha un valore di qualche decina di picofarad, immaginiamo una cinquantina di picofarad, è un condensatore variabile. Abbiamo poi il cavo, possiamo rappresentarlo così come una specie di tubetto, questo è lungo qualche decina di centimetri, un metro, insomma non è molto lungo. Poi abbiamo la punta, il puntale ha anche qua una resistenza interna caratteristica, di solito siamo attorno al valore di qualche mega e eventualmente può avere anche un connessatore di compensazione, anche questo del valore di qualche picofarad, quindi da una parte picofarad a quell'altra megaohm. Questo va poi alla punta vera e propria della nostra sonda. Dall'altra parte invece abbiamo la maglia del cavo che viene collegata al famoso coccodrillo che poi colleghiamo al ground, il circuito da misurare. Quindi questo qui è il circuito della sonda. Che cosa serve? Il compensatore serve per tarare la sonda in modo che possa funzionare correttamente. Di solito sull'oscilloscopio trovate una mollettina o una piccola vitina su cui c'è scritto una frequenza, per esempio sul mio c'è scritto 1kHz 2V picco picco. Collegando la sonda a questa mollettina sullo schermo appare un'onda quadra a 1kHz con la tensione 2V picco picco quindi molto precisa e si può utilizzare per compensare la sonda quindi andando ad agire su questa piccola vitina con un cacciavite di quelli speciali, quelli isolati, cioè non hanno il manico di ferro ma sono di plastica e hanno solo nella punta una piccola scheggia di metallo per evitare di dare disturbi. Bisognerebbe andare a ruotare questo compensatore per far sì che la forma d'onda sia più perfetta possibile quindi sia quadrata e non presenti magari degli arrotondamenti o vibrazioni o altre cose quindi si cerca di dargli la forma precisa per tarare la sonda. Il selettore va a modificare l'impedenza quindi abbiamo detto che normalmente sono a 1mg spostandolo sulla posizione 10x la portiamo a una decina di mega l'effetto che vediamo è che ovviamente il segnale visualizzato sarà 10V più piccolo questo ci permette anche di fare misure più elevate se quindi il rettangolino della divisione sullo schermo verticalmente al massimo arriva a 5V portandolo a 10x arriviamo a misurare 50V per divisione l'impedenza agisce ovviamente sull'ampiezza non sulla frequenza. La sonda qui solitamente ha una punta quindi una specie di spillino per stare attenti a non farla cadere e non rovinarlo appunto per fargli perdere il contatto spesso hanno un colletto aggiuntivo, una specie di tappo come quello delle biro che si va ad aggiungere, sull'estremità è piatto e ha una molla interna quindi voi lo potete infilare sulla sonda poi tramite la molla se voi lo spingete indietro fa uscire dalla punta una specie di uncino questo uncino è molto utile per aggrappare la sonda a parti del circuito conviene sempre usare direttamente la sonda quindi evitare di, anche se anch'io lo faccio spesso per comodità per esempio di andare a saldare fili o altri aggeggi frapposti tra il circuito e la sonda quindi spesso uno ha il circuito stampato io lo faccio soprattutto quando lavoro magari con tensioni elevate o molto pericolose vado a prendere una saldatura su cui saldo un reofero avanzato e vado ad aggrappare la sonda su questo per evitare che la sonda mi scivoli via o per evitare di, soprattutto quando sono da solo, dover fare la misura potrebbe esserci il rischio che magari mi scivola via la sonda e vado a fare qualche cortocircuito quindi per essere più tranquillo faccio queste cose vanno bene se i circuiti sono a bassa frequenza ovviamente ad alta frequenza è meglio andare direttamente quindi evitare di collegare magari fili, jumper o altre cose che possono andare a snaturare la misura che andiamo ad eseguire per basse frequenze andiamo tranquilli ci sono varie altre sonde che si possono acquistare ci sono sonde con attivazioni anche maggiori quindi a 100 o 1000 per ci sono sonde specifiche per le misure in alta tensione addirittura sonde attive che all'interno hanno un amplificatore di solito a FET quindi per aumentare maggiormente la sensibilità e quindi andare a misurare segnali molto delicati e anche sonde differenziali che hanno all'ingresso un amplificatore differenziale essendo per misurare due segnali contemporaneamente sono casi abbastanza particolari possono anche costare molti soldi quindi noi di solito useremo delle sonde classiche verificate sempre anche sulle istruzioni dell'oscilloscopio che cosa vi consiglio di solito sono quelle a 1 mega ohm con impedenza da 50 ohm andiamo a vedere l'effetto del 10x quindi del selettore di impedenza qua vedete la sonda con il selettore così 1x così 10x qui è collegata come vedete al gancetto di calibrazione l'uscita è 2 volt difatti vedete qua ho la divisione impostata a punto 5 e mi va a coprire circa 4 quadretti quindi siamo su 2 volt picco picco non è precisissima anche perché probabilmente il mio oscilloscopio ormai ha la sua età così la sonda è impostata sull'1x andando a spostare il selettore sulla posizione 10x vedete che il segnale si riduce è più basso e quindi qui ci troviamo un quadretto che è pari a 5 volt questa volta come avete visto quindi lì lavoriamo sull'ampiezza massima del quadratino tenete presente che con il selettore impostato su 10x l'impedenza aumenta quindi diventa 10 mega e la sonda quindi da meno fastidio al circuito che andiamo a misurare quindi possiamo compensare quindi avere una sonda che può andare a dar meno fastidio al circuito che misuriamo dobbiamo compensare la sensibilità agendo sul selettore verticale bene avrete capito bisogna sperimentare senza aver paura quindi fare le prove per capire come le cose funzionano usatelo come approccio non solo per usarlo oscilloscopio ma un po in tutto quello che fate bene vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao